buongiorno a tutti innanzitutto credo che mi sentiate i microfoni sono a posto allora io vedo invece il futuro della professione come quello che fiai può fare per il nostro futuro della professione perché noi qui siamo dirigenti di questa associazione e siamo qui per fornire uno strumento a tutti noi a tutti noi che continuiamo a fare gli agenti immobiliari allora il futuro della nostra professione dovrà combattere su tre fronti fornire le nuove tecnologie fare breccia o contrastare la concorrenza e puntare riprendo le parole di baccarini sulla p della nostra associazione la professionalità e forse anche un quarto punto che dovrebbe essere quello del poter finalmente sbloccare la nostra legge 39 89 a cui io sono molto affezionato perché anche il mio numero di iscrizione in fiaip ma detto questo noi prendiamo i singoli punti parliamo delle nuove tecnologie le nuove tecnologie sono arrivate sono arrivati portali è arrivato le mls sono arrivate le reti arriveranno le micro reti arriveranno tante cose noi abbiamo bisogno di persone giovani che possano percepire utilizzino già questi strumenti e possano renderle poi utili al nostro lavoro e poterle trasmettere a tutti i nostri associati l'altra cosa la concorrenza la concorrenza noi abbiamo da affrontare una concorrenza che oggi sul mercato e quindi fotografiamo la concorrenza che oggi abbiamo sul mercato abbiamo una concorrenza che lavora h 24 come abbiamo sentito prima che ha mezzi economici imparagonabili a noi che ha uno ha un'autorità interna cioè riesce a dire che cosa devono fare i propri dipendenti con un ordine che noi all'interno dell'associazione non possiamo dobbiamo invitare gli altri dobbiamo fargli capire le regioni ha una comunicazione ha una forza di comunicazione diretta e indiretta nei media perché i redazionali e la pubblicità istituzionale loro la fanno e hanno la forza di farlo hanno un marchio che può essere apprezzato non apprezzato ma quel marchio per tutti gli utenti è una cosa che dà sicurezza hanno come abbiamo potuto sentire questa mattina il potere politico hanno il potere politico di adeguare le leggi alle proprie necessità aziendali cosa che per noi nonostante l'impegno del presidente righi è più difficile anche nonostante le lotte che dobbiamo portare avanti per tutelare poi gli utenti finali i consumatori e poi hanno anche i dati sensibili ai loro clienti in un paese normale queste cose non 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 ci sarebbero noi siamo in italia un bel paese però purtroppo questo è la realtà fiai però ha delle cose da contropporre che noi dovremo maggiormente spingere la diffusione sul territorio possiamo fare leva sulla loro grandezza perché la loro grandezza talvolta si 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 presenta anche come una rigidità nel poter poi modificare le proprie indirizzi aziendali abbiamo degli strumenti interni abbiamo puntato al cerca casa re questo dobbiamo cercare di migliorarlo ancora abbiamo il nostro portale che è un simbolo di indipendenza e dobbiamo combatterli sul loro stesso mercato che il mercato dei mutui il mercato della finanza noi abbiamo auxilia la usiamo al 15 per cento noi tutti dobbiamo far sì di arrivare nel loro territorio nel loro ambito professionale e lì insediarci la professionalità noi tutti noi tutti noi dirigenti ma anche i nostri associati come abbiamo visto siamo piccole aziende siamo tutti piccoli imprenditori tutti con le nostre capacità abbiamo la competenza e l'esperienza noi fiari dobbiamo formarli dobbiamo dobbiamo dargli la formazione continua per far sì che quella p di professionalità continua aumentare sia sempre adeguata ai tempi abbiamo la conoscenza sul territorio noi abbiamo i reali valori io delle volte sento dalle banche fare delle valutazioni sugli immobili che talvolta rasentano il ridicolo soprattutto quando loro hanno un altro prodotto da offrire e poi abbiamo un'altra cosa abbiamo l'umanità tutti noi agenti immobiliari ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti talvolta siamo confidenti con loro talvolta li ascoltiamo perdiamo un sacco di tempo però noi siamo sempre lì ad aspettarli e questo anche il tempo temporale che noi dedichiamo alla professione le banche non sempre riusciranno in buona sostanza per fare tutte queste cose noi abbiamo bisogno di fare squadra non solo per questi due anni ma anche per il futuro avremo bisogno di compattarci trovare delle strade e seguirle con tenacia fino a che offriamo tutti i servizi nostri associati e voglio concludere con una mia piccola considerazione personale scusatemi ma è quello che penso ieri ho sentito per due ore parlare mio presidente nazionale con competenza e capacità è stato applaudito con un'ovazione con persone che erano in piedi per applaudirlo vedere una parte del comitato esecutivo che non lo apprezza per me questo vuol dire non fare squadra grazie a tutti